Grande distribuzione, va male, sono in molte ad aver già praticato sconti del 40-50% in tutto il Veneto in Sordina e se nei fini settimana i centri commerciali si riempiono, durante gli altri giorni le commesse si girano i pollici. Anche per questo CGL e Cisle Will hanno indetto uno sciopero degli addetti del settore nei giorni 25-26 dicembre e 1 gennaio al grido di basta con le aperture selvagge. La denuncia della triplice è puntuale, i lavoratori sono ormai stremati da orari spezzati con lunghi intervalli nel corso della giornata da riposi che arrivano anche dopo 10 giorni consecutivi di lavoro, da impieghi che costringono a lavorare ogni domenica privando la persona di ogni possibilità di passare almeno una volta all'anno una giornata con la propria famiglia da calendari lavorativi comunicati 24 ore prima rendendo impossibile programmarsi la vita. Per non parlare continua la triplice della miriade di contratti precari ai limiti della legalità che vengono applicati con sempre maggiore facilità, quali i voucher arrivati quest'anno in Veneto a sfondare il milione nel solo settore del commercio. C'è però anche l'altra faccia della medaglia e ci pensa a svelarla il movimento consumatori ADUC che accusa le organizzazioni sindacali di ipocrisia e di puntare su un'operazione di sola immagine. La maggior parte dei centri commerciali chiude nei giorni di Natale, dice l'ADUC. I sindacati lo sanno ed è un gioco delle parti. Inoltre il movimento consumatori si chiede perché i CGL e le Cisle Will non si preoccupino di quei dipendenti che da sempre lavorano a Natale come i ferrovieri, i tecnici dell'Enel, dei consorzi di bonifica, i sanitari e il personale di bar, ristoranti e alberghi. Dite la vostra sulla pagina Facebook di Televenezia.